Per la colazione dei vostri bambini vi suggerisco queste sofficissime treccine con lo zucchero in frigitrice ad aria. Vediamo come preparare. Acqua nel boccale, zucchero e lievito. Facciamo scaldare 2 minuti 37 gradi a velocità 2. Adesso mettiamo tutta la farina, il preparato per purè, l'essenza brioche e un po' di miele. Adesso lavorate 5 minuti a velocità 3. Dal foro inserite tutto lo strutto o altrimenti se volete potete mettere il burro e infine il sale. Facciamo raddoppiare la pasta e quindi adesso staccate dei pezzi da 80 grammi ciascuno. Lavorate e create dei bastoncini e infine intrecciate. Facciamo lievitare fino al raddoppio e poi preriscaldate la frigitrice ad aria a 205 gradi per 5 minuti. Sistemiamo la teglia nella frigitrice ad aria. Chiudete lo sportello e quindi facciamo cuocere a 170 gradi per 10 minuti. Trascorso questo tempo girate dall'altro lato e facciamo cuocere per altri due minuti. Spruzzate con l'acqua e passate nello zucchero semolato. Eccoli pronti!